Il prossimo concorrente è la star di Travel Companions. Di notte è stato un rocker, mentre di giorno uno studente universitario modello, Luca! Insieme al mio amico Ferdi abbiamo scoperto che da un po' di tempo che nel divertirci facciamo anche divertire. Beh, continuiamo a divertirci sperandovi far divertire finché ci divertiremo. Ma stavate dormendo? Non me l'avete visto uscire da vicolo? Ciao Los Angeles! How are you? È stato uno dei pionieri del web. Insieme a Luca gestisce la web serie Travel Companions. Ferdi, conosciamolo! Tra l'altro, dice, questi due si riprendevano in macchina con la telecamera. Ciao Luca, siamo tutti politici, questi aumenti che stanno facendo, questi passaggi di vento. Ciao, sono Ferdinando di Kinemazon. Faccio una web serie totalmente ambientata all'interno di un'automobile nel tragitto da casa al lavoro. È una web serie commedia, molto divertente, si chiama Travel Companions.